Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Mina 1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncovilaccio fino al 28 febbraio. Sulla FIPILI, fino alle 15 di oggi, chiusa la rampa in uscita in direzione Livorno dello svincolo di San Mignato. Si informa che è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico per la giornata di oggi. Per quanto riguarda la tramvia a Firenze, il servizio potrebbe subire riduzioni di corse tra le 12 e le 16. Si rammenta che è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali su gran parte delle strade della nostra regione. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!